Roberto Marcato, parliamo delle dichiarazioni di Flavio Tosi questa mattina alla stampa sulla corsa alle regionali del Veneto. Secondo lui sarebbe meglio ricompattare un centro-destra unito e ha detto basta con l'uomo solo al comando. Un suo commento? Allora, devo dire che questa è una partita importantissima nello scacchiere politico sia regionale che nazionale. Se è vero che i dubbi su un'eventuale alleanza con Forza Italia e Nuovo Centro-Destra derivano dal fatto che questi due partiti, come è noto a tutti, appoggiano o hanno appoggiato il governo di Renzi, che per noi è una catastrofe assoluta, è altrettanto vero che in Veneto abbiamo governato assieme a loro, abbiamo governato direi in maniera assolutamente importante. E quindi sarà Matteo Salvini assieme al governatore Luca Zaia a decidere le alleanze in Veneto. Dopodiché è opportuno comunque allargare la base di consenso, su questo siamo d'accordo tutti. Ho letto, non so quanto vero sia, che si fa anche il nome di Passera e della sua Italia Unica. Ecco, su questo voglio essere molto chiaro. Passera, che ha dichiarato che si candida contro il populista Salvini, è un nemico della Lega. Tosi ha ribadito, sarà la Liga Veneta a decidere invece le alleanze? Sarà la Liga Veneta assieme a Luca Zaia, che è l'unico che alla fine può mettere la parola definitiva, perché è lui che deve governare e lo dovrà fare. E lo dovrà fare in un momento storico particolarmente delicato, dove servono competenze, serve una fiducia reciproca, servono uomini e donne che siano assolutamente in grado di traghettare la Regione Veneto in questa crisi che ancora ci fa soffrire. Non mi interessano molto le segrete stanze delle segreterie politiche, servono decisioni forti su uomini e donne competenti.